Che cos'è per te il cyberbullismo? Per me il cyberbullismo è un atto aggressivo compiuto tramite strumenti telematici, quali sms, email e social network. Quali sono i rischi che corre un ragazzo navigando su internet? Navigando in internet un ragazzo può incappare nella violazione della core privacy e anche in diffamazione o in violenza psicologica da parte di altri utenti. Cosa spinge un ragazzo a prenderti vino a un sottotaglio? Il motivo principale è il fatto che dietro una pastiera ci sentono ogni minuto e cammino in casa. Qual è il ruolo della scuola, dei compagni di classe, degli amici, dei genitori in queste situazioni? Allora, credo che gli amici e i compagni di classe dovrebbero evitare di incoraggiare o supportare chi fa il bullo, mentre le istituzioni e gli adulti, dato che vengono a sapere troppo tardi questo problema, dovrebbero cercare di evitare l'esposizione dei ragazzi a questi rischi, quindi magari anche controllando i loro problemi. Menti nei pagni di cui subisce la violenza, la vittima, come reagiresti le situazioni del genere? Sicuramente non rimanere in silenzio e mi confidere con i miei genitori, con i miei amici e poi se è il caso rimanere le autorità competenti. Grazie. Grazie.